Io penso che ci sia un punto fondamentale, e cioè il valore del tempo. C'è una relatività del tempo in analisi. Il tempo è collegato direttamente con il transfert. Questa è la grande genialità di Lacan. E quindi il transfert non è un periodo lungo in cui uno racconta, ma è il taglio all'interno del racconto. Quindi si potrebbe dire che mentre un'analisi classica era raccontarsi davanti all'analista, un'analisi lacaniana è che questo racconto, che del resto è già stato fatto nel sogno, nella vita, in tutti quei pensieri che uno ha, ebbene va dall'analista e l'analista gli dà un taglio. E quindi è una temporalità completamente diversa. Possiamo dirlo da un punto di vista esterno che chi è che decide la fine di un'analisi, di una seduta di analisi, sono i 50 minuti, i 40 minuti. Ebbene no, per Lacan è l'analista in quanto desiderio dell'analista che pone un taglio. E la cosa è particolare perché ogni volta che si fa un buon taglio, se posso dire così, che non tutti i tagli sono però giusti, ebbene il paziente non fa altro che riprendere tutta la questione del proprio inconscio successivamente andandosene e a volte dicono uscendo mi è venuta la risposta o appena sto per arrivare mi sta arrivando la risposta. Quindi la cosa è un po' particolare, è come se l'analista lacaniano mette la punteggiatura al testo del paziente. Grazie.